Bene ritrovati gentili telespedatori, eccoci con il telegiornale in apertura subito. Parliamo di cronaca, andiamo a tramonti dove c'è stato un disperso sul passo rest, le ricerche nella notte non hanno permesso di trovare quest'uomo. Sentiamo il servizio d'apertura del telegiornale. Un escursionista di 76 anni, Nicolino Dell'Angelo di Fagagna, è disperso dal pomeriggio di ieri sulle montagne della Val Tramontina. Da quanto si è preso, l'uomo era uscito per una passeggiata sul monte rest nella giornata di martedì. Quando era calato il buio, aveva trovato riparo in una casera e aveva avvisato i familiari tramite cellulare che avrebbe dormito lì, dando loro appuntamento alla mattinata di ieri a Preone. Ma all'appuntamento non si è mai presentato. La figlia, dopo aver atteso inutilmente per alcune ore, convinta si trattasse di un semplice ritardo, attorno alle 14 si è arresa all'evidenza ed ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Fagagna che hanno attivato la procedura di ricerca coinvolgendo le prefetture interessate. In serata sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco della squadra SAF e del distaccamento di Maniago. Soltanto dalle 21 in zona sono stati fatti affluire anche i tecnici del soccorso alpino, un ritardo inspiegabile che ha creato sconcerto tra i volontari che hanno perso sette ore di luce per la loro azione capillare di ricerca. La pellustrazione è stata anche ostacolata dal fatto che la zona è particolarmente impervia e in quota in tarda serata è iniziato a piovere. A notte fonda del disperso non c'era ancora traccia. Già allertato l'elicottero della protezione civile regionale pronto a decollare questa mattina all'alba. Un grave infortuna per Mariacco, un bambino di due anni e mezzo che vive con la famiglia proprio in paese. Questa mattina è rimasto ferito in modo molto serio. Erano le 11 e mezza quando il bimbo si trovava con i genitori in automobile nel cortile di casa e per cause che sono ancora da accertare la testa gli è rimasta incastrata nel cristallo della portiera del veicolo e in questo modo gli ha schiacciato il collo. Per questo il bimbo è rimasto senza ossigeno e ha perso i sensi. È stato subito soccorso dall'equipe medica dell'elicottero del 118 e quindi rianimato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Udine dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Le sue condizioni sono gravi sul posto. Sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli per fare piena chiarezza sul terribile incidente. Torniamo a parlare dell'omicidio Ragone-Costanza a Pordenone. È stata scartata la pista della passionalità. Sono trascorsi quasi sei mesi da quella sera del 17 marzo quando Teresa Costanza di 30 anni e Trifone Ragone di 28 furono uccisi a colpi di pistola davanti al palazzetto dello sport di Pordenone. L'assassino non ha ancora un nome. Nel frattempo però gli inquirenti hanno scartato le piste ritenute più improbabili, come quella appassionale. Nessun corteggiatore respinto, nessun amante geloso dietro al brutale assassino dei due giovani fidanzati e c'è dell'altro. Ma cosa rimane un mistero? Il mondo delle palestre, quello dei militari, quello della vita notturna. La chiave del giallo magari non è il movente, magari scopriremo che sono stati uccisi per una sciocchezza. A parlare ieri mattina è stato il procuratore della Repubblica del Tribunale di Pordenone, Marco Martani. Ha fatto il punto sulle indagini dopo aver incontrato il capitano Pierluigi Grosseto, comandante del nucleo investigativo provinciale dei Carabinieri ed il luogotenente Gianfranco Tomatis. Indagini che di giorno in giorno stringono il cerchio, puntando maggiormente su alcune piste ed escludendone altre. Più che di piste, parlerei di ambienti, afferma il capo della procura pordenonese, alcuni dei quali si intrecciano tra loro ed è difficile districarli. Indagati non ce ne sono, ma le ricerche proseguono anche fuori dalla provincia, mentre in caserma si continuano ad ascoltare persone che potrebbero essere utili all'inchiesta. Il procuratore si sofferma poi sull'arma del delitto, una vecchia semiautomatica 7.65, non più in commercio da decenni, che poteva incepparsi. Il che significa che dietro all'omicidio del caporal maggiore del 132esimo reggimento Carri e della fidanzata non ci sarebbe alcuna organizzazione criminale. L'assassino voleva uccidere, si è appostato e li ha aspettati. È arrivato da dietro senza dare loro il tempo di capire cosa stava accadendo. Ha appuntato la pistola ed ha esploso sei colpi, uno dietro l'altro. Prima Trifone, poi Teresa, senza esitare. Li ha uccisi freddamente e brutalmente nell'auto parcheggiata vicino alla palestra che entrambi frequentavano. Un mondo, quello della palestra, sul quale gli investigatori continuano a puntare la loro attenzione. E non sembra essere scartato nemmeno il mondo sul quale gravitava Trifone, quello dei militari. Martani parla anche dello staff della criminologa Roberta Bruzzone, alla quale si è rivolta la famiglia di Trifone. Lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo, conclude il procuratore della Repubblica di Pordenone. Se ci sono rapporti, benvengano. Quando rientreranno i due sostituti che conducono le indagini, Pierumberto Valerine e Matteo Campagnaro, ci sarà probabilmente un briefing. Un incontro che attendono i genitori di Trifone, Francesco e Eleonora, la mamma del giovane e bello caporal maggiore, che ogni giorno si reca in cimitero per salutare il figlio che non c'è più. Andiamo sempre a trovarlo, conferma al telefono il papà Francesco. Sappiamo che a rientro dalle ferie incontreremo i due giudici che si occupano dell'inchiesta. Altro non sappiamo, perché siamo fermi ad agosto, ma contiamo di salire presto. E a Sacile c'è stato uno scontro, ne abbiamo parlato anche ieri, tra un'auto e un tir, sentiamo come sono le condizioni del pensionato rimasto coinvolto. Pensionato in gravi condizioni dopo un frontale avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno. E' accaduto sulla bretella autostradale che collega la A28 alla Pontebana ed ha visto coinvolte una Nissan Qashqai ed un camion Mercedes. La dinamica è ancora al vaglio della Polstrada. Sembra che la Nissan, condotta da Luciano Bazza di 69 anni, un operaio in pensione di Cordiniano, sposato, due figli, che percorreva la bretella in direzione della Statale 13, poco dopo lo svinco con l'autostrada, abbia invaso la corsia opposta ed è andata a schiantarsi contro il camion guidato da Andrea Vincenzi, 36 anni, residente a Porto Maggiore in provincia di Ferrara. Uno schianto terribile. Sull'asfalto i segni della frenata del camion e della sterzata eseguita per evitare l'impatto, purtroppo senza fortuna. L'auto ha colpito il camion frontalmente sulla parte destra e si è capovolta sulla carreggiata. I pezzi della Nissan scagliati fino a 50 metri di distanza dal punto dell'impatto. Sulla strada i segni che indicano il conducente del camion abbia cercato di evitare lo schianto, frenando e sterzando verso il centro strada. Manovre che però non sono servite a evitare la collisione. Probabilmente Luciano Bozzo non ha tentato di frenare o di rientrare nella sua carreggiata. Forse colpito da un malore che gli ha fatto perdere il controllo. Sul posto i soccorsi, chiamati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla terribile scena. Dopo pochi minuti, il 118 di Sacile e i vigili del fuoco di Pordenone hanno portato i primi aiuti e poi l'elisoccorso, in cui il personale medico è riuscito a prestare le prime cure al conducente, che è stato trasportato all'ospedale di Udine in gravissime condizioni. È arrivata anche una pattuglia della polstrada di Pordenone per i primi accertamenti e successivamente una pattuglia della polizia stradale di Spidimbergo, che ha eseguito i rilievi del caso. I carabinieri di Sacile hanno chiuso al traffico il tratto della bretella interessato dall'incidente nelle due direzioni, con deviazione all'altezza della rotatoria di Vistorta. Sulle strade minori, mentre il blocco all'uscita di Sacile e Ovest si è risolto dopo poche decine di minuti. Un altro incidente è sempre a Pordenone con uno scooter sulla Ponte Bane. Un 48enne di Cordenons è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Pordenone per i traumi e la frattura riportati nell'incidente, occorso poco dopo le 19 in Viale Venezia. Qui per causa, in corso di accertamento da parte dei vigili urbani di Porcia, all'incrocio alla Ponte Bane e Via Volta, il motorino condotto dal giovane si è scontrato con il camion aziendale che stava girando a sinistra verso l'Electrolux. In un primo momento sembrava che il motociclista fosse grave e pertanto si è pensato di dirottare sulla Ponte Bane l'alli di soccorso che stava già sorvolando la zona. La polizia aveva fermato il traffico per permettergli le manovre di atterraggio, ma i soccorritori giunti sul posto con l'ambulanza, accertato che la situazione non richiedeva un rianimatore, hanno fermato il velivolo. Il cordelonese, che è rimasto sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico commotivo, escorrezioni e la frattura di un braccio. È stato portato all'ospedale di Pordenone, dove è stato ricoverato, ma le sue condizioni al momento non appaiono gravi. Le notti sono freddi e quindi i profughi della destra tagliamento hanno trovato un rifugio in ospedale. Le notti si fanno più fresche e c'è chi va alla ricerca di un po' di tepore anche nei sotterranei dell'ospedale cittadino. A segnalare la presenza di alcune persone, probabilmente profughi, nei corridoi del Santa Maria degli Angeli, è una persona che qualche giorno fa è andata in ospedale per accompagnare il figlio al pronto soccorso. Erano circa le 22, ha raccontato l'uomo, e visto che dovevo aspettare per la visita, ho deciso di andare al bar per bere un caffè. Sono così sceso nei sotterranei, ma c'erano 5 o 6 persone, alcune sedute con la schiena appoggiata al muro, altre distese per terra. Sembravano profughi stranieri, insomma. Lo ammetto, ho avuto qualche timore ad avventurarmi nei corridoi da solo all'ora tarda ed ho rinunciato al caffè. Mi hanno detto poi che non era la prima volta che qualcuno dormiva lì o nelle sale d'aspetto. Un racconto affatto irreale o inimmaginabile, vista la presenza di profughi alla ricerca di un tetto dove vivere e dormire anche in città. Fabio Sirocco, della direzione sanitaria, non si stupisce più di tanto di queste presenze, anche se dice che nessuno lo ha avvisato di quanto accadrebbe durante la notte nei sotterranei. Forse è stato un caso sporadico, sottolinea, o forse scelgono gli anfratti più nascosti dove nessuno li può vedere. Ma una cosa è certa. Avevo in agenda di tornare a fare in settimana i giri periodici con la polizia per controllare sale di attesa e reparti. Dopo questa segnalazione ci muoveremo subito, anche durante la notte. Posso solo dire che c'è stato qualche caso di persone che dormivano nella sala di attesa, ma si è risolto senza problemi. Intanto continua la processione di profughi nel prefabbricato di Via Piave, costretti a dividersi gli angusti spazi del prefabbricato con una sola toilette, se così si può definire, dove la turca fugge anche da doccia. Oggi ce ne sono 54, conferma Luigina Perosa dell'Associazione Immigrati. La situazione è ogni giorno più difficile perché devono dormire per terra, senza materasso. Non abbiamo coperte a sufficienza e nemmeno vestiti pesanti. Le notti sono sempre più fredde e i disagi aumentano. Andiamo adesso in provincia di Udine, a Pazian di Prato, per parlare di una brutta avventura di quattro friulani che sono rimasti coinvolti in un atterraggio di emergenza. Ha vissuto momenti sconvolgenti una famiglia friulana in un viaggio con un volo Air India da Varanasia a Nuova Delhi. L'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza e si è sviluppato un incendio. È Nico Busolini, di Passon di Pazian di Prato, a raccontare l'esperienza vissuta insieme alla moglie Susi Marcuzzi e alla figlia 19enne, rimasta lievemente ferita, e al figlio di 11 anni. È accaduto il 7 settembre alle 18.30, ora locale, racconta. Eravamo al termine di una vacanza di 20 giorni e ci stavamo dirigendo a Delhi per la tappa finale. Il volo era in ritardo di due ore. Deve essere successo qualcosa già in quota, perché siamo stati dirottati su una pista di emergenza all'aeroporto internazionale Indira Gandhi. A bordo c'erano circa 150 persone, ci si può immaginare la paura durante l'atterraccio da incubo. I passeggeri sono stati condotti in tutta fretta verso gli scivoli di emergenza. Quelli più vicini ai nostri posti erano proprio nei pressi del punto interessato dall'incendio, che ho visto e così ci hanno fatto usare le rampe di testa e di coda, riferisce Busolini. Avvertivamo odore di cherosene. I pompieri rorravano con i getti d'acqua all'aereo ed i passeggeri in fase di evacuazione che sono arrivati al suolo fradici. Mia moglie piangeva, mia figlia è caduta sulle ginocchia strappandosi jeans. Io cercavo di rassicolarli in una situazione di disorganizzazione totale. I passeggeri sono stati costretti a fare un giro a piedi per raggiungere l'infermeria. Le valigie sono arrivate dopo ore, mentre gli effetti personali abbandonati sull'aereo e nella fuga sono andati perduti. C'erano difficoltà di collegamento nell'immediato e quando finalmente un amico che avevo raggiunto si è messo in contatto con l'unità di crisi di Roma non erano informati. L'indomani ho potuto parlare con l'ambasciata italiana, ma anche in questo caso non sapevano nulla. Ci hanno fatto gli auguri di buon rientro e di pronta guarigione. Abbiamo anticipato il più possibile la partenza. Ora vorremmo quantomeno sapere che cosa è successo e quanto abbiamo rischiato, dichiara il turista friulano. Nei telegiornali indiani è stata data notizia dell'accaduto. Secondo alcune fonti si sarebbe verificato un guasto idraulico, ma dopo l'atterraggio di emergenza sarebbero stati segnalati fumo e fuoco sotto il veicolo, forse provenienti dalla ruota anteriore, spingendo il pilota a ordinare l'evacuazione. In questa fase alcuni sarebbero rimasti contusi, ma la compagnia aerea ha negato che vi siano stati feriti. Questa mattina uno schianto invece a Carlino nella bassa friulana è rimasto coinvolto anche un uomo che è finito in ospedale. Schianto all'incrocio tra la provinciale Maranese e Via Toppo Wasserman in comune di Carlino tra una Peugeot e una Volkswagen Scirocco. Gli occupanti non hanno riportato fortunatamente gravi traumi. Incerta invece la dinamica dello schianto. Secondo quanto verificato da una prima ricostruzione, erano le 7.45 di questa mattina quando c'è stata la collisione tra una Peugeot proveniente da Via Toppo Wasserman e la Scirocco proveniente da Carlino. Le due auto, dopo aver carambolato sulla strada e scavalcato il fossato, hanno concluso la loro pazza corsa nel giardino di una casa vicina. La Peugeot ha centrato lateralmente un albero e l'occupante è rimasto incastrato nell'abitacolo. L'immediato intervento dei vigili del fuoco di Cervignano lo ha prontamente liberato, permettendo così ai sanitari del 118 di prestargli soccorso. È stato così trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli occupanti invece della Volkswagen sarebbero rimaste praticamente inglese. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia dei carabinieri di Latisana che hanno così provveduto a smistare il traffico che a quell'ora era particolarmente intenso. Ci fiediamo qui. Non resta altro che ringraziarvi per averci scelti. Vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Rimanete con noi. Rimanete con noi.